Ciao a tutti, Simona Sventura per il piccole magazine e qui con l'ex ormai Miss Drag Emilia Romagna perché lei è stata Miss Drag Emilia Romagna 2021 che ha ceduto il titolo ma che ha portato in scena una straordinaria drag elegante che ci ha colpito con i suoi cambi d'abito e con la sua versatilità Complimenti a Cannibal che tra l'altro, mi posso forgiare di questo titolo, sono stata un po' la mammina artistica l'ho scoperto io, insomma si è esibita l'anno scorso e tra l'altro sta bruciando un sacco di tappe ma ci facciamo dire tutto da lei, eccola qui, Cannibal Cosa devo dire Simona? Tutto quello che stai facendo Ma io sto facendo un po' troppe cose, allora, io sono felicissima quest'anno di essere qua di nuovo a consegnare la corona a una bravissima drag queen, Ludmilla ma soprattutto ricordare che un anno fa, iniziato dal nulla, per me è stato un trampolino di lancio enorme perché adesso posso anche un po' vantarmi di dire di essere in grandi cast, in grandi staff e giro un sacco di discoteche locali ed è un'emozione veramente unica poter esprimere quello che sento dentro in questa forma d'artre, in questo modo, in così poco tempo e voglio ringraziare anche Simona che mi ha dato l'opportunità appunto l'anno scorso di questa cosa E me lo dico sempre, il talento va premiato e tu sei veramente una persona talentuosa perché lo possiamo dire, ti sei costruita anche tutto questo abito da sola, con le tue manine come del resto tantissimi tuoi outfit come ci arrivi a pensare a fare certe cose? Non dormi la notte? No, no, infatti tutto il correttore che ho è per le occhiaie perché chi dorme no, comunque, sì, faccio tutto da sola e per me l'espressione drag è anche esprimerla tramite l'abito, il capo che secondo me è una delle parti più importanti quindi sì, io non dormo la notte il segreto è non dormire, mi raccomando, è un buon psichiatra è vero, no, io ogni volta che chiamo Cannibal per qualsiasi manifestazione e so che questo inverno ci vedremo un po' più spesso perché la voglio ospite anche in una delle nostre serate anzi più di una io non so mai quello che porterà in scena perché è veramente una drag eclettica anzi anche un po' pazza mamma, tanto pazza perché veramente ha fantasia da vendere quindi se volete scoprire molto di più su Cannibal seguitela e inseguitela sui suoi social Instagram e Facebook perché veramente ci regala delle grandi chicche che in mezzo a tante checche ci stanno a Dio ovviamente va bene, vi mandiamo un grosso bacione un abbraccio a tutti gli amici del piccole magazine e un abbraccio da Cannibal e Simona Sventura ciao ciao amie